Ehi sapete che dovete comprare le magliette di Bertra perché vi fa un freestyle devastante Io sono Bertra, comprate le magliette, se no vi faccio affette, non vedrete mai le tette Ok questa era una pubblicità probabilmente più brutta di tutte quelle del resto del video, però comprate le mie magliette Salve a tutti ragazzi sono Bertra e benvenuti a questo nuovo video Oggi siamo qua perché volevo vedere un po' di nuovo di pubblicità, un ripilante non ne facevo da mesi Quindi ho detto perché no? Partiamo subito con le pubblicità più brutte del secolo Cristo Dio, vabbè ma di che anni è? Sarà del 2000 neanche questa roba Yo yo vedi fa anche lui il rap cazzo Smiley Central, Cristo, che bello le emoji nel 2000 Già per 50 anni buongiornissimo caffè, manca giusto il cagnolino col caffè Partiamo col botto Che cosa? No, perché? Salva le tue palle o le nocciole, ecco Cristo santo Perché mi sta dicendo di toccare le palle? Ok, ok, ok basta Non voglio fare il controllo per il cancro alle palle ma grazie per questa importantissima notizia amico Ma che pubblicità è? Oh mio Dio, perché dovresti avere una maschera da saldatura con le tizie nude sopra? Oddio Wish, non avevo dubbi che fosse Wish Ah Dio santo Ti piacciono gli anime ma ti piace anche fare le cose in metallo? Compra la maschera per saldare con le donnine nude così tutti ti sfotteranno ma tu potrai bruciarli vivi Ah ah Cosa sto vedendo? Incredibile Sì ma perché? Ma che? Che cosa? Oh mio Dio Che cazzo è sta pubblicità? Oddio È bellissimo dai No è bellissimo Questa è fatta da Dio Non scherziamo Però se lo usi al contrario puoi ingrossarti le parti che ti interessano Si usa un sacco per il pene Te lo attacchi quando vai da una e dici Ehi guarda Due metri Poi stacchi la presa È un casino Perché ci sono dei Geki che si abbracciano? Nooo No Geko Nooo Che cosa? Cos'è? Ma perché? E anche l'altro? No che tristezza Dai Ma cos'è? Ma che cos'è? Ma che cos'è? Ma che cos'è? Flexibor Ma che lingua è poi? Se mai avessi bisogno di qualcosa da mettere sul soffitto Se mai avessi bisogno di qualcosa da mettere sul soffitto Non comprerai sta roba solo per questo spot Mi ha depresso in un modo allucinante Fai Peter Griffin Cosa cazzo? Wow è fatto da Dio Da Dio Sembrava proprio Peter Griffin Identico Cazzo Un grande prodotto I Doritos Mamma mia che feels Oh mio Dio Oh mio Dio Santissimo Oh no No per l'amore di Dio Cosa cazzo sto vedendo? Oh mio Dio Ho bisogno di un po' di terapia Ho bisogno di anni di terapia Sì immaginate essere l'attore che ha fatto questo spot E la tua faccia è su questa roba In tv in tutta America E la gente ti riconosce per questo La tua vita è finita Oh mio Dio Il film dell'emoji e il McDonald's Che schifo Cosa cazzo sto vedendo? Wow che meme Ho cringiato un bel po' ragazzi Questo non lo faceva neanche ridere Proprio solo cringe gratis Non sorride mai Oh Oh no Oh cazzo Ha delle caramelle sui denti Ma che cazzo Gli ha rubato i denti Ah che schifo Ma che cazzo Limone mi duro Che ti do le caramelle Oh mio Dio Che parola Che lingua è? Cos'è sta roba? Wow sono le cyber rocks Mueve la bocca Sarebbe potuto essere più cringio Onestamente eh Ho visto di peggio nelle pubblicità per bambini Questa gliela buono Wow questo sembra Low budgetissimo Cos'è? Quanto low budget sta roba Dio mio Vuoi un gioco fatto di 3 pixel? Compra anche tu questa roba Oh mio Dio Cos'è sta roba? Oddio il gioco dei Looney Tunes E' terribile Ma che cazzo Oh cazzo Bella l'idea però Onestamente contando che è vecchissimo sto spot Però un pochino un pochino cringio lo è perché No in ogni caso Thank no Miss Friday Oh mio Dio E' una gif infine Oh mio Dio Ok posso chiudere qui Che schifo basta Gente che dabba basta Chiudo il video e basta